Dimmi papà, se ritrovassi una cosa dell'infanzia a cui tenevi come un tesoro, cosa proveresti? Il film che ha incantato il mondo e ci ha fatto sognare. Si fa in quattro per risolvere i pasticci della vita degli altri. E di lei, chi è che se ne occupa? Ma io non la conosco nemmeno. Ma sì che la conosci! Non è che per caso si sta innamorando. È lei? Sì, è lei questa. Il favoloso mondo di Amelie. Questa sera, 21 e 10, Rai Movie.